Ancora lacrime per il covid in Irpini. A quattro le persone decedute nelle ultime 24 ore. Piaggio e candida per la scomparsa di un 86enne ricoverato da oltre 15 giorni in terapia subintensiva. Lacrime a Grotta Minarda per la dipartita di una 87enne ricoverata nell'area covid dell'ospedale Frangipane. Vittime ancora più giovani, un 53enne di Greci ricoverato ad Ariano Irpino. Comunità sotto sciocca anche ad Altavilla dove una donna di 63 anni è risultata positiva al virus dopo il decesso. E' raggiunta al pronto soccorso del Moscati per un arresto cardiocircolatorio. Quanto il virus abbia inciso è difficile da stabilire. Negli ospedali intanto la pressione resta. Al Moscati di Avellino 7, le persone in area rossa su 10 postazioni disponibili. La buona notizia è rappresentata dal fatto che dal 1 ottobre ad oggi sono stati dimessi o trasferiti in altri istituti 155 pazienti. Terapia intensiva piena anche alla Frangipane 7 su 7 posti occupati. Non è remoto il rischio che pazienti gravi debbano essere trasferiti fuori provincia o peggio, vista la situazione in Campania fuori regione. Intanto in Irpinia si registrano 135 positivi al virus. Il tasso resta sotto il 10%. Piccoli focolai familiari continuano ad alimentarsi ad Avellino e Montoro. In Campania i positivi si attestano sul tasso del 17 su 100 persone scrinate. Aumentano i guariti ma anche i deceduti in Campania 31 negli ultimi 5 giorni.